Paolini, Gastronauta Radio 24, un modo per promuovere il vino abruzzese al di fuori dei confini della regione proprio con appuntamenti di questo tipo che portano i giornalisti stranieri ad apprezzare il vino abruzzese? Io credo che il miglior modo di promuovere un territorio e un vino è portare in loco i giornalisti stranieri ma non solo i giornalisti stranieri ma sicuramente anche gli uomini che acquistano il vino in giro per il mondo perché il contatto con la realtà, il contatto con l'uomo, il contatto col territorio, il contatto dove nasce il vino secondo me è straordinario soprattutto quando ci sono regioni come l'Abruzzo che hanno un panorama, hanno un paesaggio straordinario da far vedere quindi qui c'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, io credo che serva anche al turismo, non solo al vino quindi diciamo che si prenderebbero due piccioni con una fava come si dice Una promozione giovane per il vino visto che da poco è entrato nell'Olimpo del buon bere italiano malgrado la grande qualità espressa dai vitigni abruzzesi Ma io non è da oggi che scopre i vitigni abruzzesi come ho detto conosco Valentini, addirittura il padre Masciarelli Di Masciarelli è venuto un giorno a Milano per dirmi poco prima di morire che io avevo scritto il primo articolo su di lui quindi questo dimostra che io già vent'anni fa sul Sole 24 Ore perché scrivo contemporaneamente sul Sole 24 Ore da 30 anni cioè dei vini me ne sono sempre occupati a cominciare anche dai vini di Nicodemi quindi sono diciamo tre produttori che io già conoscevo vent'anni fa Consorzio di tutela vuole a questo punto cercare di conquistare sempre maggiore spazio nel panorama dei vini internazionali e quale potrebbe essere il modo per vincere questa sfida? Ma questa sfida è far conoscere i vini perché i vini parlano come ha detto qualcuno e secondo me è vero quindi il problema di far assaggiare questi vini a più persone possibili persone che decidono e di conseguenza poi avviene il tam tam quindi di andare all'estero promuovere all'estero ma al tempo stesso portare far venire qua non lo so chef, ristoratori insomma il mondo che poi consuma il vino non solo giornalisti Perfetto, grazie mille